I satelliti sono uno strumento molto potente, ci permettono di vedere il suolo non solo nei suoi colori naturali ma anche con dei filtri, con delle frequenze diverse che permettono quindi di vedere la stessa porzione di territorio però sotto altri occhi, quindi con caratteristiche diverse possiamo osservare ad esempio proprio la quantità di acqua presente. Questa dunque è un'immagine satellitare a colori naturali del litorale nord di Roma, andiamo a guardare più nel dettaglio una porzione ben precisa che verrà adesso nel rettangolo rosso, quindi vedrete delle immagini che non sono a colori naturali evidentemente ma anzi a delle scale di colore che vanno dal blu al marrone nelle prossime immagini. Guardate la differenza tra il 2017 ed il 2022, il blu è chiaramente indice della presenza dell'acqua e guardate anche la costa, c'è quel tratto di canale lì che è stato completamente eroso negli ultimi 5 anni, quindi erosione della costa, possiamo vedere anche presenza di acqua nel suolo, davvero strumento molto molto utile. Eleonora a te. Proprio così, grazie Costanza, domani buongiorno Regione.